buongiorno mondo indovinate dove vi portiamo oggi all'international motor days civita nuova marche lux stiamo arrivando ma sarà possibile che dobbiamo controllare la pressione delle gomme non ci siamo allora ci siamo fermati noi in un autogrill che non era autogrill e non c'erano né red bull né lion no no non c'era solo questo tristezza infinita o finalmente adesso possiamo ripartire felici ciao ciao giulietta accoglienza che mancano perna ma quanto sei quindi possiamo ricordare cosa succederà per esempio domani certo grande programma anche domani si inizia al mattino prestissimo finisce la sera lui ha vinto lui ha vinto tutto ma non è anche ripreso io che smavano no si eccoci arrivati all'international motor days di civita nuova marche non solo moto per questo weekend e andiamo a vedere tutte le altre attività e che fanno che fanno che fanno è stra difficile meglio in moto! Come andate ragazze? Benissimo! Ma sapete che non è niente male? Non vi ho ancora presentato le ragazze con cui sono qui oggi? Ragazze? Erika! Ciao! Icia! Ciao! Che ha già fatto un bel pezzo di viaggio con me! Adesso andiamo a fare? Andiamo a fare dei piccoli piccoli salti con delle piccole piccole cose! Vedremo cosa salterà fuori! Vi avvicinate mantenete la stessa posizione per togliere il gas in aria Certo! Cercavi le marce? Allora com'è andata? Abbiamo saltato tutte le rampe lì eh! Sì sì uguali! Allora ne abbiamo saltate a un'altra più o meno così però è stato divertente! Piccoli passi! Sì sì! Ancora vivo eh! Molto bene! Tutto a posto! Sì sì sì! Gli ultimi passi! E' such a stay! E' un'altra più o meno così! Si, è questo e questo e questo è chiaro. E' un'altra più sicura! E' un'altra più sicura! Come è mostrato le rampe lì eh! A quanto è sicura! Esca! E' un'altra più sicura! 7500 kg adesso non abbiamo capito esattamente cosa dobbiamo fare noi ci prepariamo nell'indecisione adesso vediamo chi ci salterà chi chi sei pronta sei pronta oh 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 Molte ruote nelle donne facciamo sempre precoce però non è bene Ricorsa Scatenatissimo No, non si ferma, questo è il team freestyle fermato Vittorio sulla ruota anteriore, posteriore e giù Qui hanno creato questo campo, questa pista dove poter fare off-road con le fuoristrada Grazie mille per il giro Ciao Io sono pronta per fare drink Da passeggera ovviamente Grazie mille per il giro Grazie mille per il giro Ragazze Due parole, chigata pazzesca Scusa, scusa, scusa Questi sono stati i nostri International Motor Days Motori, musica e tanto divertimento Ma lo sapete qual è la cosa più importante di tutti? Le amiche Comunque siamo 4 biker In diretta da casa di Lugia Vallesi Ragazzi allora seguite il canale di Nesgate ADV Attivate le notifiche Lasciateci un commento Seguideci su Instagram Ciao 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 ragazze Noi stiamo con il bar Noi stiamo con il bar Non l'abbiamo partito. Noi sì! Si parte. Perché non parte? Si è partito, ma non lo dice. Niente, niente male. Noi sì!